Romano Loiello Siamo qui nella sua città Nardo di Pace per la dodicesima edizione del Pinocchio in bicicletta organizzata dallo Sporting Club di Mimmo Bambini con la presenza oggi del campione Francesco Moser Sì, come ho detto proprio poco fa Francesco Moser è stato qualcosa di emozionante perché poi l'ho vissuto in età infantile quando ragazzi della scuola media vedevamo Francesco Moser sui libri, sui diari su tutto quello che riguardava le attività scolastiche ma avrei pensato di ritrovarmi a Nardo di Pace in veste da sindaco a riceverlo in una manifestazione così importante perché oggi lui è qui per fare dei testimoni in una iniziativa che è rivolta ai bambini ai ragazzi delle scuole elementari e medie di Nardo di Pace dell'istituto comprensivo Fabrizio e Mongiana per parlare di ambiente, parlare di sport ma parlare anche di educazione che secondo me è qualcosa di molto importante in questo particolare momento storico grazie a tutti